Sempre su questo al presidente Draghi Alatella, se vuole commentare anche lui, dirci qualcosa e dirci poi anche se magari può essere già un primo tassello per l'anno prossimo per l'Ischia in Serie D. Innanzitutto complimenti a Mario per quello che ha fatto, non solo per l'abilitazione da direttore sportivo professionista ma soprattutto per la squadra che ha costruito insieme ad Enrico Buonocore che ci ha consentito di salire di categoria finalmente, quindi complimenti per tutto. Per il resto già stiamo lavorando, io credo che Mario resta con noi per fare una grande ischia anche il prossimo anno. Noi abbiamo goduto due giorni e al terzo già abbiamo lavorato, quindi adesso noi aspettiamo questo fine settimana facciamo questa festa per tutta l'isola e poi ci metteremo al lavoro seriamente.